Ora voglio riferire sulla questione AstraZeneca, che era oggetto della richiesta di questa informativa. Si tratta di una questione delicata, che dobbiamo trattare con chiarezza e precisione. Anche in questo caso stiamo ai fatti e ai numeri. Innanzitutto voglio ricordare che ogni nostra scelta, anche sui vaccini, è da sempre guidata dall'evidenza scientifica e dal principio di precauzione. È un tratto distintivo della nostra cultura come Paese e delle buone pratiche della sanità pubblica. E da questo orientamento di fondo non ci siamo mai spostati neanche di un millimetro. Abbiamo sempre deciso, sulla base delle evidenze scientifiche, delle informazioni in nostro possesso, di concerto con EMA e AIFA. È una garanzia per i cittadini europei che con la farmacovigilanza vengano costantemente monitorate l'efficacia dei vaccini e le eventuali reazioni avverse. È un tratto di serietà che dobbiamo rivendicare, perché testimonia il rigore scientifico e il senso di responsabilità con cui lavoriamo ogni giorno per il bene dei nostri cittadini. Ci sono, quando parliamo di AstraZeneca, come degli altri vaccini, due verità che vanno sempre ricordate e spiegate. La prima è che la comunità scientifica internazionale ha compiuto un'impresa senza precedenti nella storia della medicina, rendendo possibile in poco meno di un anno la produzione di più vaccini, per sconfiggere questo nuovo virus che ha colpito duramente il mondo intero. La seconda verità è che in questa lotta contro il tempo è fisiologico che, dopo milioni di inoculazioni, l'utilizzo di un vaccino possa essere ulteriormente valutato e, anche se necessario, rimodulato relativamente alle fasce di età sulla base delle evidenze scientifiche che maturano disponendo di una casistica molto più ampia. La rimodulazione nell'utilizzo di un vaccino è un'applicazione necessaria del principio di precauzione a cui prima facevo riferimento. Fatta questa premessa, ed entrando ancora più nel dettaglio, sgombriamo il campo da ogni possibile equivoco. AstraZeneca, come tutti gli altri vaccini messi in commercio in Europa, è un vaccino efficace e sicuro. È un vaccino che salva la vita delle persone. Lo abbiamo visto in modo particolare analizzando i risultati ottenuti sul campo, nel Regno Unito.